Sette pianoforti come un arcipelago di musica diffusa nel centro storico di Ceglie Messapica e l'anteprima democratica e gratuita dell'edizione 2019 del Festival Piano Lab a cura dell'associazione Laghi Ronda che torna sul luogo del convivio come lo scorso anno per dare suono a musicisti della tastiera in un mix di professione e amatorialità. Cominciamo dai nomi famosi, in primis Michele Marvulli, il decano dei pianisti pugliesi con 90 anni appena compiuti e poi tra gli altri Francesco Libetti, Roberto Esposito, Lau Caligiuri, molti anche gli studenti talentuosi provenienti da vari conservatori pugliesi con mini esibizioni di una dozzina di minuti e infine in piazza Plebiscito il pianista brindisino Mirco Lodedo con un recital solista su testi di Enrico Messina. E le prossime date del Festival promettono altri grandi appuntamenti. Sabato 3 agosto il tributo in esclusiva regionale a Ennio Morricone con l'ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno tra i musicisti ospiti sul palco il violinista del Cirque du Soleil Attila Simone con il concerto romantico interrotto tratto dal film Canon Inverso mentre l'attesa è per martedì 6 agosto quando arriverà a Martina Franca, unica tappa in Italia il celebre pianista sudcoreano Yiruma.